Amici sportivi ben trovati sugli schermi di Sportme. Siamo arrivati alle finali del torneo Summer Cup di Giampilieri. Quest'oggi Bull B di fronte FC Bampagasudi contro FRATM per Bampagasudi, Geraci, De Stefano, Russo, Pellegrino, De Natale, Di Stefano, Gennaro. Per ATM Galli, Saia, Puleo, Filoni, Ruggeri, Migari. Giocatori che fanno il loro ingresso in campo chiamati uno per uno dallo speaker del campo. Ricordiamo ATM in maglia blu, Bampagasudi invece in maglia verde. Luce accese, presentazione completata e allora è tutto pronto per dare il calcio d'inizio. Primo pallone per Bampagasudi. Corner Bampagasudi con lo scambio e poi il destro da parte di Gennaro. Micari allunga in angolo. Galli fa correre per Filoni, ancora Filoni, la palla arriva a Puleo che si gira, palla di poco fuori. Palla giocata in profondità, arriva Gennaro, va col tacco ma non trova la porta. Di Stefano da palla e si inserisce ancora di Stefano con la suola. Che gol porta in vantaggio Bampagasudi col tocco delicato che vale l'1-0. Ancora Bampagasudi a manovrare col tocco intelligente in profondità. Gli basta sfiorarla a De Natale per il gol che vale il 2-0. De Natale, da lontanissimo, palla che resta lì, tap in vincente da parte di Pellegrino. Siamo 3-0. Punizione ATM, va Micari col destro, potente ma impreciso. Pellegrino si lotta in mezzo al campo, esce Filoni, palla al piede, Filoni col destro, fulmina Geraci, gol che riaccende i ragazzi di ATM. Tocco retrato per Galli, se la porta sul mancino lo esplode, il palo ancora Galli, palla respinta sempre Galli col mancino. Stavolta il tocco è vincente, siamo 3-2. Punizione interessantissima, destro potente, miracolo da parte di Ruggeri. Ruggeri accomoda il pallone per Galli, alza la testa, attenzione Galli ci prova, da lontanissimo, beffato Geraci e il gol del 3-3. Siamo in perfetta parità. Riparte Bampacasudi col mancino deviato, stavolta di Di Stefano, palla che finisce di poco alta. Gennaro si accomoda il pallone, si gira col destro, palla di un soffialato. Sempre il 10 di Bampacasudi, palla al piede, attenzione, vede il movimento di De Natale, stavolta Ruggeri mette in angolo. Russo, attenzione a spazio, ancora Russo, apre di esterno per il tocco di Pellegrino, vincente, si riporta in vantaggio Bampacasudi. Filoni contro Pellegrino, toccare trato per Ruggeri, attenzione, la palla rubata da parte di Russo, Ruggeri in estirata, mette una pezza. Si riparte con il secondo tempo. Cambio di fronte a cercare Galli, se l'accomoda col mancino, ancora un palo da parte di Galli, sempre palla al piede, l'accomoda per Saia, potente col destro, deviato, solo angolo. Galli perde il contrasto con De Natale, avanza De Natale dall'altra parte per il destro, potentissimo di Gennaro che spacca la traversa. Pellegrino vince il contrasto, finta il destro, se la porta sul mancino, Ruggeri alza il muro. Rimessa abbattuta velocemente, De Natale, il tocco per Pellegrino, palla che arriva a Gennaro, di faccia, Ruggeri nega il gol. De Natale, cambio con Pellegrino, ancora De Natale col mancino, stavolta non può nulla, Ruggeri è il gol che vale il 5-3. Russo avanza lui, palla al piede, ancora Russo col destro, Ruggeri dice no, poi Pellegrino di testa non trova il tap in vincente. Pellegrino avanza lui, tocco no look per Geraci, Ruggeri respinge, ancora Pellegrino, sempre Ruggeri a dire di no. Tocco in profondità a cercare di Stefano, si gira, non trova Russo, poi il destro potente di Gennaro, ancora una traversa per i 10. Avanza a TM, da Micari a Filoni, a spazio, finta il destro, ancora Filoni lo esplode, con un po' di fortuna Filoni trova la rete del 5-4 a TM. Di Stefano tocco a Gennaro, De Natale, ancora Gennaro potrebbe riandare da De Natale, invece va col destro, non trova la porta. Pellegrino a spazio, fa correre di Stefano, va col Mancino, le unghie di Ruggeri ad alzare in angolo. Palla per Pellegrino, finta il destro, se la porta sul Mancino, calcia, De Natale devia il pallone, poi finisce giù, attenzione, c'è calcio di rigore. Dal dischetto va Pellegrino potente, palla sul palo e in rete, è il gol del 6-4. Pallone in profondità per la sgassata di De Natale, ci arriva quel tanto che basta, non riesce Micari ad evitare il gol, 7-4. Russo recupera la sfera, potrebbe andare potente, ci va in un secondo momento, Ruggeri respinge, miracolo di Ruggeri sulla seconda conclusione, a botta sicura di Di Stefano. Palla che viaggia veloce tra i ragazzi di ATM, arriva a Galli, cerca di scartare Geraci, non riesce, poi palla che viene giocata da terra, sarà punizione a 2 in aria. Punizione battuta velocemente, arriva il gol di Filoni, sorpresi tutti quanti, siamo 7-5. Ancora palla da Galli a Filoni, stavolta c'è il palo colpito dal numero 8 di ATM. Avanza palla al piede Di Stefano, l'appoggio è per De Stefano, va immediatamente col Mancino, sorpreso stavolta Ruggeri per il gol che potrebbe chiudere il match, 8-5. De Natale chiude su Galli, ancora De Natale cerca il tunnel, non riesce, Galli si impossesse della sfera, il tocco dietro per Filoni, attenzione c'è il fallo di mano da parte di De Natale, sarà calcio di rigore per ATM, va Galli potente, il gol che riapre tutto, siamo 8-6. Rimessa battuta velocemente, Gennaro cerca spazio, Ruggeri respinge, ancora Gennaro si prende il pallone, Gennaro che cosa ha preso Ruggeri, fenomenale. Corner battuto velocemente da ATM, attenzione c'è forse un contatto e così sarà calcio di rigore, secondo rigore della serata per ATM, ancora Galli ci prova, stavolta il duello viene vinto da Micari, che ipnotizza Galli e tiene ancora il risultato in ghiaccio. Sempre Galli, voglioso di rifarsi, ancora Galli ci riesce, si rifà con gli interessi, il gol dell'8-7, soltanto un gol di distanza tra le due squadre. Bampa Casudi che cerca di rifarsi De Natale in area, finisce giù, stavolta il contatto è nell'altra area di rigore, il penalty sarà per Bampa Casudi che trova il gol del 9-7 col proprio numero 10, Gennaro, che chiude i giochi. Ancora Bampa Casudi, tocco in profondità che non trova nessuno, ma non c'è più tempo, finisce qua, si prende il premio della Pool B, la squadra in verde di Bampa Casudi che supera 9-7 ATM. La Marco Laquitara è tutto, a risentirci su SportMath.